In Piazza della Rinascita, Pescara in pieno centro, anche il collettivo studentesco di Pescara sta raccogliendo viveri, generi alimentari da consegnare nelle prossime ore alle popolazioni terremotate del Lazio, delle Marche e dell'Umbria. Una bella iniziativa, vediamo tanti ragazzi che invece di andare al mare, invece di godersi questi ultimi giorni di vacanza prima della riapertura delle scuole, stanno lavorando qui con grande impegno per raccogliere questi generi di prima necessità. Noi pensiamo che sia comunque un'iniziativa necessaria in questo momento per stare vicini a una popolazione che possiamo portare nel cuore anche per la nostra vicinanza. Tutti quanti abbiamo sentito il terremoto, tutti quanti ricordiamo quello che è successo all'Aquila, adesso siamo nell'età per poter aiutare quindi abbiamo deciso di farlo, noi come altri ragazzi ovviamente. Cosa state raccogliendo e come vi state coordinando con la protezione civile e comunque con le organizzazioni che sono sul territorio? Allora stiamo raccogliendo principalmente generi alimentari a lunga conservazione quindi cibo in scatola, pasta ma anche ad esempio vestiti, coperte, acqua e ci sono vari punti di raccolta qui a Pescara che si dividono i vari generi che stiamo raccogliendo. Ad esempio la Croce Rossa che accetta acqua, latte in polvere, la protezione civile che accetta cibo e coperte e stiamo ovviamente dislocando a ogni associazione ciò che serve. Avete iniziato ieri, andrete avanti ancora per diversi giorni? Allora abbiamo iniziato ieri alle 2 e questo quindi è il secondo giorno, oggi abbiamo deciso di fare sia mattina che pomeriggio visto che ieri c'è stata un'affluenza davvero davvero inaspettata, siamo stati effettivamente molto contenti di vedere che questa iniziativa ha avuto effetto. Continueremo molto probabilmente nei prossimi giorni, adesso dobbiamo sentirci con la protezione civile, ci diranno loro ovviamente le necessità, quanto dobbiamo continuare, se continuare, però ovviamente noi la volontà ce l'abbiamo.